La ricetta primaverile Per preparare insieme la nostra ricetta avremo bisogno di carote, un limone, dell'olio extravergine d'oliva, mandorle, non tostate, sale, pepe, erba cipollina Partiamo! Per prima cosa dovremo pelare le carote Una volta che avremo pelato tutte le carote sarà necessario tagliarle a fette irregolari per facilitarne la tritatura all'interno del cutter A questo punto possiamo mettere nel cutter tutti i nostri ingredienti e prepararci a frullare Quindi avremo le carote, una manciata abbondante di mandorle Una presa di sale Un pizzico di pepe nero Quindi dell'olio extravergine d'oliva Un po' d'acqua ci aiuterà a frullare al meglio E la scorza di limone Ora non ci manca che frullare Ok, il nostro pesto è pronto Non ci resta che spostarlo in una ciotola e aggiungere l'erba cipollina tritata Buttiamo la pasta in abbondante acqua salata Tritiamo ora l'erba cipollina Il nostro pesto è finalmente pronto Ora non ci resta che scolare la pasta Procediamo ora con il condimento Aggiungiamo abbondante pesto E mescoliamo bene Aggiungiamo ancora un pizzico di sale Un pizzico di pepe E mescoliamo bene Disponiamo quindi le nostre farfalle integrali al pesto di carote nel piatto Infine decoriamo con un fiore di stagione Ecco fatto, il nostro piatto è pronto Buon appetito! Grazie a tutti!